Ci sono piccoli momenti di gioia e serenità che racchiudono nel profondo la certezza che un domani migliore è possibile. Ci sono ricordi che devono ancora essere scritti, ma che tutti noi possiamo far succedere. C'è bisogno di sostenere chi ha bisogno di noi, chi non può farcela da solo, soprattutto quando si parla di giovani e bambini. Per questo io prometto di esserci sempre. Il tuo lascito ai Salesiani aiuterà a costruire i sogni e il futuro dei